il nostro pollo precedentemente tagliato e tutte le erbe che a noi piacciono andiamo ad aggiungere dell'aglio salvia abbondante rosmarino del vino bianco che portiamo a sfumare saliamo e pepiamo con pepe nero amalgamiamo bene il tutto e copriamo con magic cooker lasciando a fuoco il rilascio per almeno 5 minuti sono trascorsi 5 minuti, è sfumato il nostro vino, andiamo ad aggiungere la frutta disidratata aggiungiamo delle mandorle papaya mango ed ananas uva sultanina e della mela fresca la mela fresca per ammorbidire e lasciare il giusto grado di umidità visto che il liquido di cottura si è tutto asciugato in questo caso uniamo anche un filo d'olio a piacere a piacere del peperoncino per chi ama l'agrodolce piccante copriamo il tutto da inizio cottura sono trascorsi 25 minuti se volessimo caramellare la frutta ancora un pochino per altri due a fuoco vivo sempre con magic cooker e poi togliamo di fuoco signori il nostro pollo è pronto e ora fissi 20 minuti ići incontrazioni facciamo questo va cambiare l'arco quando formate facciamo questo poi non ades pienso tutto